Il Super Mare Cross torna in riva all'Adriatico, torna dopo un anno di assenza, per la precisione a Francavilla al Mare, location della seconda tappa degli internazionali d'Italia, trofeo Gaetano Di Stefano. Nella terra del team pluricampione Party Racing si sono sfidati gli specialisti della sabbia, tra i percorsi insidiosi del tracciato. Seconda tappa che segue quella di settimana scorsa disputata a Bacoli, per un Super Mare Cross 2011 che riserva, come sempre, conferme e anche tante sorprese. Protagonisti i Centauri delle Dune, presenti tra loro anche molti provenienti dal Veneto, all'orizzonte c'è la tappa di casa, quella di Bibione di Aprile, da affrontare cercando di studiare al meglio i prossimi avversari. Per Francavilla, da sempre palcoscenico di questa gara, è emozionante un ritorno alla grande e d'altronde il tracciato e il mare adriatico non potevano che essere i presupposti di uno spettacolo di altissimo livello.